Prendiamo la registrazione e riprendiamo la registrazione. Vedete l'uccellaggio e l'uccellini, vero? Sentite? Date un ok che siamo in collegamento. Luciana ci sei? Sì, ci sono. Ok, allora si vede l'uccellaggio e l'uccellino. Perfetto, allora dobbiamo andare un po' velocemente, poi eventualmente vi forniamo ovviamente il PowerPoint, quindi è del 66 Uccellacci e Uccellini, questa volta con il massimo d'argento a Totò come miglioratore. Chiaramente Totò è un'icona ovviamente del film presentato al festival di Cannes. Qui abbiamo, lo stesso Pasonello lo definisce un film ideocomico, dove rappresenta la morte delle ideologie, utilizzando questa maschera clavonessa di Totò, che è un boppo scantonato di Minetto Davoli. Quindi c'è una specie di peregrinazione un po' picaresca di queste due maschere, c'è anche una sequenza documentalistica e funerale di Valmiero Togliatti, come che diventa caocesura per la nuova fase della storia italiana, messaggio d'amore recepinto, poi c'è però un palco ucciderà e mangerà lo stesso un passero, il periodo finale di ricordo è cucinato e mangiato da Totò, e questo è chiaramente l'ideologia di gerire assimilata nel corpo piccolo-borghese, dissolvendo ogni carica rivoluzionaria, quindi chiaramente anche in questo ovviamente la politica è cambiata. Nel 67 il tipo re, sempre presentato alla mostra di Venezia, si allontana sempre di più da un cinema popolare, e inoltre un cinema evitario in contraposizione alla cultura di massa, di Legante, che imperante intorno a sé, lui è sempre stato contro l'omologazione, quindi continua nelle sue, diciamo, provocazioni, compie due operazioni parallele, da un lato è il recupero del mondo passato mitologico, dall'altro affrontare l'archetico del complesso edifico, e ovviamente i rapporti difficili con il padre di cui abbiamo già parlato. Il riporere racconto a questo conflitto tra modernità presente, è un passato mitologico, questa memoria un po' architipica, che lui vede sempre, diciamo, superficiale e costumistica. L'edipo cieco è la metafora della cecità, della civiltà occidentale contemporanea, rappresentata dal poeta, da Pasolini, che non vuole più vedere la realtà che non conosce, meglio non riesce a pensare. avvicina per favore il microfono, perché si sente attratto. Sì, ecco, allora, va meglio così? Sì, sì, va meglio. Ecco, perfetto. Se è possibile, corrompere l'ordinaria di un gruppo familiare all'alta borghesia, quando arriva un giovanotto, Terence Stamp, che con la sua carica materica pulisce via la patina della finzione. C'è un prima e dopo l'arrivo dell'ospite, e c'è anche il messaggero Ninetto Davoli, e quindi l'annunciazione che il mondo sta per intomettersi, è squarciare il velo, c'è questo concetto di tempo e spazio, che è sempre molto presente, il nulla, e quindi, diciamo, ecco l'aspetto teoretico del teorema che diventa l'annunciazione di poesia. Sconvolta da questo microsistema, diciamo, ovviamente l'ospite avrà così condotto verso il loro destino tutti gli aspetti. Del 69 è Medea, che è liberamente ispirato al mito di Euripide, al mito di Giasone, e esprutta questi differenti fonti per costruire un'opera che diventa una specie di manifesto poetico del confronto dal mito e modernità, e queste sono un po' le sue corde. La figura di Medea, ovviamente, il simbolo di una civiltà antica, agricola, legata alla religiosa civiltà panteistica, sempre in contrapposizione alla, diciamo, civiltà occidentale, un'opera ricchissima in simbologie, come solo è piena di contrappunti, e quindi, chiaramente, diciamo, Porcile del 69, anche questo presentato a Venezia, è un riferimento più o meno diretto e grosso, questa artista berlinese del primo del novecento, su un lavoro avversivo, violento, pornografico, raccontato dalla crisi esistenziale della Germania post bellica, e di cui, appunto, il regista riprende in qualche modo. E poi c'è la trilogia della vita, che prima il Decameron, la prima trilogia, poi seguita dai racconti di Canterbury e il fiore delle mille e una notte, siamo ai primi anni settanta, sostituisce la Firenze, nel racconto, ovviamente, del Decameron, con Napoli, che è un po' più il diletto napoletano, rende più umani questi poveri Cristi, si alternano primo piani, creazione dell'artista, visione del giudizio universale, tableau vivant, che riprende il giudizio di Giotto, della Cappella dei Scovigni, seppur al centro, anziché il Cristo viene dalla Madonna, subvina e si paramangono qui, con il bambino. I racconti di Canterbury del 72, pensate, Urso d'Oro al Festival di Berlino, è una cosa straordinaria, naturalmente, dal soggetto letterario di Choser, naturalmente, e quindi è un po' sempre lo scollamento, c'è sempre questo suo rapporto con la realtà. Nel 74 è il fiore delle mille e una notte, e la scelta di un uso sfacciabile, olesiaco del sesso, deriva da questa esigenza, sempre più felice di inquadrare ancora qualcosa di autentico, e quindi il comune senso del pudore far raffioccare denunce, di oscenità, insomma, tutte le provocazioni di Pasolini sono sempre, diciamo, la trilogia, è un viaggio che si conclude nella Napoli dei quartieri spagnoli, mira le salle dell'Oiemen, attraverso le proprie di amore e morte, e così via. Finisce con questo film che sarà visto in prima, solo dopo la sua morte, pochi giorni dopo la sua morte, perché lui non finisce nemmeno di montarlo, se avete visto il film di Abel Ferrara, ne avete, questo è forse il film di cui sapete di più, Salò e le 120 giornate di Sodoma, anche qui, appunto, viene visto, diciamo, solo dopo, postumo, naturalmente, le 120 giornate di Sodoma e il Marchese de Sade è alla base, e quindi c'è questa simbologia dell'anarchia del potere, i protagonisti in diverse forme di potere, il Duca, e così via, eccetera, come al solito c'è questa lotta contro il potere. La sceneggiatura collabora anche Sergio Citti, anche grandissimo, in cui avati, una grande ricercatezza liberti, la musica, il lavoro di Morricone, i Carmina Burana, insomma c'è anche qui una ricerca stilistica straordinaria, e sono, diciamo, e passiamo, proprio rapidamente, proprio due minuti, su Ennio Colagliano, Pescara, 1910, 1972, 68 film da sceneggiatore, 3 d'attore, 2 d'aiuto regista, è stato nominato all'Oscar tre volte, sempre con Pellini, come vedete, 8 e mezzo, la Dolcivina di Telloni, in cui collaborava la sceneggiatura, prende un nastro d'argento, sempre per 8 e mezzo, è il miglior soggetto per la Dolcivina, è il miglior soggetto per l'inchiesta, è Roma città libera, il premio migliore sceneggiatura straniera, per le notte di Cabiria, ecco. Lui era famosissimo per le sue battute, era un battista straordinario di diaforismi, come questo, è peggio che può capitare un genere di essere compreso, oppure, riferita alla situazione italiana, lui diceva, la situazione è tragica, ma non è seria, insomma, cose di questo tipo. Allora, un giornalista che gli chiese, se in un'enciclopedia del 2050, dovessimo scrivere, è Neflaiano che ci scriviamo, ma lui disse, giornalista, sceneggiatore, autore anche di un romanzo, concediamo questa ipotetica encerroperia, la situazione è esatta, scrittore minore, satirico dell'Italia e della benessere, non si smentiva mai. Suso Cecchi d'Amico, che era invece una grandissima sceneggiatrice, una delle più grandi, una di quelle che lavorava a Sodo, ne fa un giudizio un pochino, diciamo, caustico, perché dice lui, dice, nell'istituto di sceneggiature con Flaiano, tra chiacchiere, critiche e devecazione del soggetto, c'era da ricavare materie per condire dieci film, sarebbe andato tutto per tutto se fosse toccato a lui di cavare il succo. Ho fatto centinaia di riunioni di sceneggiature con Flaiano, ma di pagine scritte da lui ne ho viste ben poche. Lo scrittore vero non può compiacersi del lavoro di sceneggiature, che deve trovare il modo di tradurre in immagine per tutte e dei concetti, oltre che nei fatti. Flaiano scrisse parecchi soggettini, ma di sceneggiatura sua ne conosco due sole, quella di Melampo in cui voleva fare la regia e che non è bella, e quella tratta dalle ricerche di Proust per René Clemant, un compito del quale era molto scontento. Quindi vedete, è un giudizio piuttosto, ma bisogna dire che Flaiano aveva cominciato come critico cinematografico e Keisic dice di lui cose bellissime, leggendo Flaiano sembra di essere nell'angolo di via notturna di Roma, fermi a una tappa dialettica del cinema e caffè con le voci degli amici che nel fervore della discussione si alzano quasi a livello di litigio. Ma chiaramente tra il 47 e il 71 Flaiano oggettivamente scrive tra le più belle sceneggiature ne ha fatti dieci coffellini, quattro con Pagliero e Blasetti, tre con Zampa, Emmer e Franciovini e poi anche tutti gli altri, tantissimi altri. quindi insomma era uno sceneggiatore molto amato perché era effettivamente molto bravo. Questi sono essenzialmente tutte le sceneggiature che ha scritto molto rapidamente e in definitiva possiamo dire che era molto amato dai suoi registi e è andato a scrivere anche per molti e bisogna dire che ancora oggi molti anni dopo la morte sono passati 50 anni ancora oggi si prendono suoi scritti e sue sceneggiature e si portano sul grande schermo come ha fatto Giulio Bazzi di recente. Nel 74 alla sua memoria è stato istituito il premio Flaiano per soggettisti e sceneggiatori ed è uno dei più importanti premi che esistono in Italia viene fatto a Pescara ed è diciamo dove è stata intitolata una via e il ponte e a Dan Flaiano è intitolato anche la biblioteca comunale il municipio di Roma 3 a Roma mi scuso un po' della fretta e vi do il compitino per casa se volete naturalmente vedere questo film La truffa dei Logan di Steven Soderbergh che è un film divertentissimo tutt'altro che è diciamo molto diverso dal film su Pasolini che avete visto di Albert Ferrara che è lo stesso film che è stato indicato ai vostri colleghi del primo corso che scriveranno le diciamo critiche le loro impressioni su questo film che è un film molto divertente è una rapina insomma veramente straordinaria di un grandissimo regista e poi dal momento che probabilmente voi sarete comunque chiamati non so se questo si riuscirà a fare a dare un parere su queste critiche mi sembrava giusto che vedeste anche voi questo film però passo la parola alla professoressa Gorlina per la chiusura e che vi dà qualche diciamo ulteriori dettagli su questa operazione Luciana puoi chiudere tu Sì allora ragazzi mi dovete mandare questa volta proprio la recensione perché siamo in chiusura quasi del nostro progetto e quindi me la mandate per i primi di maggio perché poi vi indicherò tramite il professor Bortone ecco quale sarà il nostro ultimo incontro stiamo stabilendo con l'ingegner Masullo magari di vederci in sala per poi fare direttamente il dibattito con un critico cinematografico e insieme all'ingegner Masullo in sala quindi poi questo ve lo darò come indicazione successiva nel frattempo la data del 2 maggio per le recensioni buon lavoro e buon lavoro naturalmente anche alla professoressa che ci ha seguito mi scusi le chiedo soltanto la cortesia c'è stato un attimo di movimento nel cambio dell'ora se può un attimo ripetere quello che appena detto perché i ragazzi non l'hanno sentita grazie ok mi sentite ora perfetto allora dicevo dovete fare la recensione del film proposto dal docente l'ingegnere Masullo cioè la truffa dei Logan e la la dovete consegnare al professor Bortone entro il 2 maggio il nostro prossimo incontro lo confermeremo col professore perché sarà in sala chiaro grazie buon lavoro a tutti grazie arrivederci vi saluto allora chiudiamo arrivederci allo あと